Terra Amara Speciale spoiler Nel finale di Terra Amara, Adnan diventa il regista della sua vita Alla conclusione di questa straordinaria storia, troviamo Adnan, un personaggio che abbiamo visto crescere e maturare nel corso delle stagioni Ormai diventato adulto, Adnan si trova di fronte a una svolta significativa, sia dal punto di vista professionale che personale, destinata a plasmare il suo futuro La decisione di trasporre la complessa e ricca narrazione della storia della sua famiglia in un film, rappresenta un progetto ambizioso e profondamente sentito Una sorta di test cinematografico, un omaggio inteso a onorare e perpetuare il retaggio familiare Il fulcro di questa serie, è rappresentato da sua madre Zuleya Una figura che Adnan intende ritrarre nella sua maestosità di grande signora di Chokurova La scelta di farla protagonista non è casuale Zuleya incarna il prototipo ideale di matriarca forte e resiliente Una donna che ha superato innumerevoli sfide E rappresenta il legame tra le varie generazioni della famiglia Lei è il simbolo della tenacia e del coraggio Valori che Adnan vuole evidenziare e celebrare attraverso la sua arte Nel tessere il racconto, Adnan si imbatte in una rivelazione storica Che aggiunge ulteriore profondità al già ricco mosaico familiare La bisnonna, custode della memoria e del patrimonio della famiglia Affida ad Adnan non solo i ricordi, ma anche il compito di preservarne l'integrità E di raccontarli con la dovuta reverenza La sua narrativa diventa un ponte tra passato e presente Un'eredità che Adnan accoglie con il rispetto e la serietà che merita Attraverso la realizzazione di questo film Adnan non soltanto celebra la figura di sua madre e le radici della sua famiglia Ma si impegna in un viaggio di riscoperta personale e collettiva Dove i confini tra storia personale e storia collettiva si fondono in modo indissolubile Il film si configura come un'ultima dichiarazione d'amore Un omaggio alle generazioni passate E una testimonianza per quelle future Un'opera che riafferma con forza l'importanza delle radici E della storia personale nel plasmare la nostra identità Amin, protagonista di questa epica familiare Si spegne a 109 anni, nel 2011 Circondata dall'affetto dei suoi cari Il culmine della serie Che trova riscontro anche nella presentazione del film di Adnan al Festival di Berlino Riscuote un enorme successo Condividendo la morale che ha guidato l'intero percorso narrativo Adnan si ritrova immerso nell'ascolto Avvincente e storico Di Apti Pasha Figura emblematica che ha esercitato un'influenza significativa nella storia della sua famiglia L'epilogo della serie Ricco di rivelazioni e momenti catartici Vede Adnan e la sua bisnonna Amin come figure centrali Che testano insieme le ultime pagine di una storia densa di eventi e sentimenti Adnan, figlio resiliente di Zuleyha e Ilmas Si è modellato attraverso avversità ed esperienze che lo hanno segnato fin dalla tenera età La sua vita è stata un mosaico di episodi tumultuosi Intrisi di emozioni forti Dai rapimenti che hanno turbato la sua infanzia Alle vendette familiari Che hanno segnato la sua linea dinastica Fino alle perdite dolorose che hanno impresso cicatrici profonde sul suo cuore In questo contesto, il film non solo celebra la ricca storia familiare Ma offre anche uno sguardo profondo nell'animo di Adnan Un individuo plasmato dalle sfide E forgiato dalle esperienze La narrazione si snoda come un affresco emozionale Un tributo alle radici che ci definiscono E alle storie che ci formano Ogni prova ha contribuito a forgiare il suo carattere Rendendolo un uomo di spessore e complessità Nonostante gli scossoni e le turbulenze che hanno caratterizzato il suo percorso Adnan ha potuto sempre contare su un affetto incondizionato L'amore costante e rassicurante di suo padre Ilmas E quello di Demir che, nonostante i conflitti e le tensioni Ha saputo dimostrare un legame indissolubile Adnan, deciso a impiegare il suo talento e la sua passione per il cinema Intraprende la realizzazione di un film unico Quest'opera, ambisce a riflettere una realtà complessa Fungendo da veicolo per una verità che merita di essere narrata Il film è un omaggio alla figura di sua madre, Zuleya Che ha incarnato con dignità e forza i ruoli di madre, moglie, e donna In una società in cui tali ruoli erano spesso messi alla prova Il progetto cinematografico di Adnan si sviluppa come un viaggio retrospettivo Attraverso la pellicola, vuole trasmettere la resilienza La passione, il dolore, e l'amore Che hanno permeato la vita di sua madre E per estensione, la sua stessa esistenza L'obiettivo è rendere omaggio alle lotte Celebrare i trionfi, e soprattutto Immortalare la forza dello spirito umano di fronte alle avversità Il processo di creazione del film Diviene un atto di memoria e dedizione Adnan si impegna a raccogliere materiali, aneddoti, fotografie, e lettere Consulta archivi, registra interviste E si immerge in un profondo lavoro di documentazione Per garantire che ogni dettaglio narrato sia fedele alla realtà E rispettoso della veridicità dei fatti e dei sentimenti Nel narrare la storia di sua madre Adnan si confronta profondamente con la sua eredità Consapevole che il film che sta per realizzare Rappresenta anche una testimonianza della sua identità Questo mosaico di ricordi ed esperienze Ha plasmato non solo la sua vita Ma anche quella dei suoi antenati Costituendo un tributo alla sua famiglia Ma al contempo Un dialogo con le generazioni future Un lascito che trascende l'individuale Per toccare l'universale La bisnonna Ammin, oltre ad essere un sostegno per Adnan Condivide anche la storia di Aptipasha Un militare ottomano del 1800 Che a causa della sua demenza senile Lei ha sempre scambiato per il suo fidanzato La dolce nonnina di Chukurova aiuta Adnan a scoprire eventi familiari di cui non era completamente a conoscenza Grazie ai preziosi racconti della bisnonna Adnan può ricostruire con precisione ogni episodio della storia della famiglia Yaman In una svolta decisiva per la sua crescita personale e professionale Adnan decide di lasciare la sua terra natia per trasferirsi in Inghilterra Rinomata per le sue prestigiose accademie di cinema E dove potrà perfezionare il suo mestiere Sotto la guida dei migliori maestri del settore L'Inghilterra si rivela un terreno fertile per la crescita artistica di Adnan Un ambiente ricco di stimoli culturali e opportunità Che gli consentono di esplorare le diverse sfaccettature del linguaggio cinematografico Affinando la sua visione e la sua sensibilità narrativa Durante il suo percorso accademico E le esperienze che ne seguono Adnan si immerge in un progetto che lo coinvolge a fondo Un'impresa cinematografica che considera il suo capolavoro Un film intitolato Zuleya, la grande signora di Chukurova Quest'opera non è soltanto un film Ma un monumento vivo alla figura materna Un omaggio struggente alla donna che ha plasmato non solo la sua esistenza Ma quella di tanti altri Zuleya, la matriarca La colonna portante di una famiglia E di una comunità intera Si trasforma nell'epicentro di una narrativa Che intreccia dramma personale e storia collettiva Amore e sacrificio Resilienza e redenzione Il processo creativo di Adnan Si distingue per la sua meticolosità e immersione totale Dedica innumerevoli ore a raccogliere testimonianze E a scavare nei dettagli più minuti Alla ricerca della verità che ha plasmato la vita di sua madre La sua dedizione è così profonda Che ogni fotogramma del film riflette l'autenticità e la profondità emotiva delle storie che vuole narrare Adnan si circonda di una troupe di professionisti Selezionando attori in grado di incarnare i personaggi con la stessa intensità con cui sono stati vissuti La produzione diventa una sinfonia di talenti Tutti sintonizzati sull'ambiziosa missione di rendere giustizia alla storia di Zuleya Quando finalmente Zuleya, la grande signora di Chukurova Viene presentato in anteprima al Festival di Berlino L'emozione è palpabile Il Festival, vetrina di prestigio internazionale Diventa il luogo dove i film sono apprezzati Non solo per il loro valore estetico Ma anche per la loro capacità di toccare temi universali E connettere pubblici di diverse culture La presentazione del film segna un momento di apice Dove la potente narrazione di Adnan Si fonde con l'attenzione globale del Festival Creando un impatto che va oltre i confini geografici e culturali Il film di Adnan si distingue per la potente carica emotiva Una narrativa avvincente E una raffinata qualità cinematografica Non è solo la storia di sua madre Ma rappresenta anche la trama condivisa da ogni individuo Che si trova ad affrontare le avversità Mantenendo viva la speranza e l'amore La pellicola si snoda attraverso gli eventi che hanno segnato la vita di Zuleya Ma si estende anche alle vicende di coloro che hanno intrecciato il proprio destino con il suo È un racconto che va oltre la singola esistenza Toccando le corde dell'esperienza umana in modo collettivo Il pubblico al Festival di Berlino non assiste solamente alla proiezione di un film Ma partecipa a una manifestazione di eredità che va oltre il tempo e lo spazio Risuonando con la potenza di una verità condivisa e profondamente personale Con la sua opera, Adnan non celebra soltanto la vita di sua madre Ma eleva la sua storia a simbolo di perseveranza e umanità L'indomita morale del film sintetizza l'essenza della trama A tratti dura, ma estremamente coinvolgente È una storia in cui l'amore permane eterno I combattimenti spesso sono mortali Ma la speranza trionfa su tutto Ma la speranza trionfa su tutto